Come state? Un saluto ben ritrovati, vi invito come sempre a iscrivervi sul logo AL, lasciate un bel like, commentate numerosi, prima di entrare nel vivo del video vi faccio vedere quello che ho preso su catacalcio.com, vi metto poi il link qui sotto, una bella tuta dell'Italia, c'è anche ovviamente il pantalone con appunto anche il nuovo sponsor, ci sono diversi prodotti e con il codice AL avete uno sconto del 10% qui sotto il link, se volete farvi qualche regalo ci sono diversi prodotti, potete usufruirne. Allora ragazzi, la situazione è questa, ci sono ancora nuove voci sempre più insistenti sul fatto che la Juventus abbia come prima opzione per il prossimo anno Massara nel ruolo di DS, Massara che al Milan avrà un altro anno di contratto il prossimo, sembra molto legato a Paolo Maldini però di fatto anche a mezzo stampa non ha ancora smentito questa possibilità. La Juve deve ripartire, lo sapete, e pare abbia individuato appunto nel DS del Milan la prima scelta. Ci sono però diverse incognite, è chiaro che alla Juventus avrebbe una promozione Massara, ma dall'altra parte andrebbe in una Juve che avrebbe delle difficoltà comunque a livello anche di gestione. Al Mina lui non è il frontman, cosa che comunque non gli dispiace, c'è Maldini che è un po' il frontman e lui è il braccio destro, sono molto legati. Personalmente mi sembra strano poter pensare che Massara dica a Maldini grazie vado via, però da Torino notizie, indiscrezioni, voci sempre più autorevoli sul fatto che la Juve voglia Massara. Che cosa farà il DS del Milan? Io credo possa restare al Milan, però il fatto che dopo una prima notizia si stia ancora parlando a distanza di qualche settimana, a rigor di logica probabilmente lascia intendere che non c'è dall'altra parte un no secco. Questa è una supposizione, vediamo che cosa succede, Juventini e Milanisti che ne pensate, che cosa vi augurate, commentate qui sotto numerosi con il vostro punto di vista, iscrivetevi qui e appunto se volete utilizzare il codice AL, vi faccio rivedere la felpa, ci sono tanti prodotti, qui sotto c'è il sito se volete dare un'occhiata. Un saluto a tutti e buona giornata, ciao!